Leonardo Silva Revisore Revisore Noi siamo schemi. Beh, sì, in realtà siamo da sempre schemi. Da quando nasciamo abbiamo praticamente una serie di informazioni, di caratteristiche che ci vengono assegnate da tutto ciò che ci circonda, dai familiari in primis, ma sicuramente anche dalla società comunque in generale. Questi schemi sono la nostra rappresentazione che a prescindere da quello che poi siamo realmente, e quindi legati a quello che potrebbe essere comunque una situazione tipicamente costituzionale, rappresenteranno il nostro vivere nella comunità, nella società. E nella sessualità... Beh, nella sessualità è un aspetto molto particolare, perché nella sessualità diventano stereotipi, stereotipi pesantissimi, perché ho sentito parlare anche prima altri colleghi nello speech rispetto agli stereotipi di genere. Voglio partire proprio da questo. Quando nascono dei bambini, in realtà dovremmo essere felici semplicemente perché nasce una nuova vita, e quindi in qualche modo dovremmo essere pronti a rappresentare al sociale la nuova vita. In realtà non funziona così. Nasce subito uno schema, uno schema molto forte, molto pazzesco direi, perché i genitori vanno a gara ad appendere fiocchi, coccarde. E guardate un po', rosa e azzurri. Sia mai che siano un altro colore. Perché? Perché dobbiamo dimostrare comunque di essere stato in grado di aver fatto un maschio o una femmina, non un bambino. E questo è uno stereotipo. Immaginate quanto questi bambini, sin da piccolissimi, si porteranno sulle proprie spalle questa caratteristica. Senza volerlo, senza saperlo. Anche perché, in realtà, immaginate che l'identità di genere, quindi la rappresentazione di noi stessi, stessi come maschi e come femmine, avverrà molto più tardi. Intorno ai tre anni, più o meno, i bambini si riconosceranno proprio anche avendo definito se stessi, nominandosi poco prima. E poi con la pubertà. Quindi molto, molto più avanti. E nello stesso tempo, però, questo aspetto alla nascita, inconsapevolmente, viene rimarcato proprio dalle stessi genitori. Quando io spiego l'identità di genere o comunque l'identità sessuale, perché forse sarebbe molto più utile parlare di identità sessuale, rappresentata appunto dalle caratteristiche biologiche, l'identità di genere, l'espressione di genere e l'orientamento sessuale. In realtà, mi aspetto sempre di rompere un po' questo schema, questo stereotipo, perché decifrandola, spiegandola, dando anche dei riferimenti scientifici, che non darò oggi, naturalmente, cerco di far capire alle persone che, forse, quando nasce un bambino, potrebbe essere importante rappresentare semplicemente la nascita di quella vita, di quella nuova vita. E allora quando alcuni dei miei studenti o comunque delle persone che mi conoscono mi mandano delle foto di fiocchi gialli, verdi, arcobaleno, ecco lì io mi sento un po' più rassicurato, perché dico, finalmente, finalmente qualcosa sta cambiando, qualcosa cambia all'interno di quello che è la rappresentazione di uno schema che sembra così di base, ma che non vuole essere negativo, vuole essere trasformativo, perché quando poi le persone sono adulte e non riescono ad essere libere di essere se stesse, ricordiamocelo questo schema, perché probabilmente parte veramente da molto, molto indietro. La sessualità. Beh, la sessualità quindi diventa sicuramente procreativa, sarebbe sciocco dimenticarselo, però mi piacerebbe sottolineare quanto la sessualità è anche divertimento. Perché divertimento? Perché il fatto di riuscire a divertirsi nell'erotismo significa rappresentare buona parte delle espressioni di sé, in libertà, in serenità, in tranquillità, e vi posso garantire che nella maggior parte dei casi questa cosa non avviene. Non avviene perché comunque il fatto di giocare, soprattutto nelle coppie anche di lunga durata, a un certo punto scema, e se ne va via, cioè perde di significato, non ha quella giusta intensità per permettere di stare bene insieme, rinnovando costantemente la fase dell'innamoramento. Beh, ricordatevelo, l'innamoramento dura poco, poi dopo c'è l'amore, però nell'amore, se non si rinnova costantemente l'innamoramento, secondo me, oggi come oggi, i rischi delle coppie sono altissimi. O almeno questo è quello che poi io vedo da un punto di vista clinico. Eppure noi abbiamo un ormone, l'ossitocina. Si chiama addirittura l'ormone della felicità. E l'ossitocina viene rilasciata in tantissime esperienze della vita umana, ma moltissimo all'interno di quella che è la rappresentazione appunto dell'erotismo e della sessualità. E quando viene rilasciato l'ossitocina? Beh, sicuramente quando stiamo molto bene, quando siamo molto eccitati e quando arriviamo a quello che è effettivamente la fase poi culmine, l'orgasmo. Se io vi chiedessi che cos'è l'orgasmo, riuscireste a rappresentarlo? In realtà la vedo molto dura perché al di là di Eri ti presento Sally e quindi il fatto di riuscire a simulare l'orgasmo al tavolo di un ristorante, tendenzialmente l'orgasmo è rappresentativo di volti, di espressioni, di suoni, di una serie di elementi importanti che rappresentano in quel momento il lasciarsi andare, il non controllarsi. Immaginate che una caratteristica particolare nel genere umano è che l'uomo tende a controllare continuamente o ci prova e la donna invece a raggiungere in qualche modo il lasciarsi andare. Perché? Perché sembra difficile. E tutto questo è in una delle esperienze più importanti del nostro essere umani, quella di essere appunto orgasmici. Orgasmici che mi viene da dire nella donna, forse ancora di più nella donna che nell'uomo, perché l'uomo avendo un contatto diretto anche con l'orgasmo associato all'eiaculazione è tutto molto più semplice. La donna invece deve in qualche modo concentrarsi e a volte si continua a fare delle domande tipo orgasmo clitoridea, orgasmo vaginale e io dico no, aspettate, non fate confusione, non entrate in questo ginepraio che è effettivamente molto complesso. L'orgasmo è uno. Cioè, fisiologicamente l'orgasmo è uno. E anche se non voglio farvi una lezione accademica, però vi vorrei spiegare che l'orgasmo è dettato da contrazioni involontarie della zona genitopelvica. Nello specifico, per quanto riguarda la donna, ancora un po' più complesso, è la contrazione involontaria del terzo esterno del canale vaginale. Sì, avete capito bene. Terzo esterno del canale significa la parte più prossima all'uscita, o all'entrata in quel caso, che genera a un certo punto, nella parte anteriore, una platform, che si chiama platform orgasmica, che creando delle contrazioni involontarie improvvisamente generano l'orgasmo. Cioè, quello che effettivamente è la rappresentazione del massimo punto di piacere. Sessualità, quindi, è complessa. Sessualità, complessità, mi verrebbe da dire, no? Sessualità, nello specifico, ci rappresenta anche all'interno di che cosa? Di quello che è normativo, cose che sembra giusto fare, è importante fare, patologiche, assolutamente negative, sbagliate, questo non si fa perché comunque se fai questo sei addirittura perverso, mi verrebbe da dire, oppure semplicemente criminali, semplicemente per modo di dire, perché quelle forse sono realmente le situazioni negative, lo stupro, la violenza, e comunque la sessualità c'è sempre dentro. Quando ho iniziato a studiare la sessualità e la sessuologia mi sono reso conto che questi tre schemi, questi tre contenitori forse non bastavano. Perché? Perché intanto erano troppo rigidi, era troppo comodo in qualche modo rimandare, rimarcare il fatto che una persona poteva sentirsi normale, visto che io dico che la normalità non esiste, oppure patologica, e sì, ok, non sto bene, quindi c'è qualche disturbo, c'è qualcosa che non va, oppure criminale, e allora sicuramente viene anche arrestata. Al riguardo ho deciso di creare un qualcosa che fosse un po' più fluido, un po' più, come dire, continuativo all'interno della sessualità, e quindi ho deciso di rappresentarlo con questo continuum che, ok, ai due estremi noi abbiamo la normatività e il sex offending. Sex offending significa appunto la parte criminale, no, della violenza. Però ci sono tutta una serie di altre cose importanti, secondo me, all'interno, che non starò qui adesso a spiegarvele nel dettaglio, ma mi vorrei concentrare soprattutto su quella della trasgressione. Perché il termine trasgredire, che solitamente viene associato a un'accezione negativa e non positiva, perché uno dice se trasgredisco faccio qualcosa che non dovrei fare, in realtà io la vorrei vedere come la possibilità che le persone si danno di sentirsi libere di fare un qualcosa che realmente sentono e che vorrebbero fare, soprattutto se associamo a questo il rispetto nei confronti dell'altro, oltre che nei confronti di se stessi. Ecco allora che nel trasgredire noi abbiamo le trasgressioni. Ma trasgressioni nell'erotismo e nella sessualità, in una libertà e in un consenso, sono aspetti veramente molto particolari. Tutti noi probabilmente facciamo fantasie, forse pochi di noi le mettono in pratica, ma tutti noi stiamo dentro alla trasgressione a questo punto. E qual è la massima caratteristica di cui a volte le persone hanno anche paura? È sicuramente quella rappresentata dal BDSM. Non so quanti di voi le conoscono, ma il BDSM è un acronimo che è rappresentato praticamente da una serie di comportamenti, di caratteristiche, che spesso vengono viste come sbagliate. E io dico no, forse sono realmente trasgressive. Non sbagliate, perché dentro al BDSM ci sono delle regole importanti. La B sta per bondage, quindi legare, farsi legare. E io dico, e aggiungo una cosa importante, legame. Due persone che si legano, o una che lega l'altra, genera comunque un'unione, un legame. E il legame è affetto, non è solo eros o sesso. È vero, sì, c'è la D di dominanza, no? O comunque di disciplina. D'accordo, poi vi farò vedere anche un'immagine che sicuramente rappresenta questa dominanza. Ok, un po' forte, però anche se forte, secondo me, è importante riconoscerlo come aspetto solo trasgressivo. E poi, S di sadismo, M di masochismo. E vabbè, qui allora hai detto qualcosa che non va bene, quattrini, perché, come dire, sadomasochismo è sicuramente patologico. Eh no, perché se ci sono delle regole vuol dire che le persone che vivono una realtà sadomasochista molto probabilmente sono contente, serene e entusiaste del loro vivere questo erotismo. Quali sono le regole? Le regole nel BDSM sono poche, ma essenziali. SSC, sano, sicuro e consensuale. Cosa significa in realtà? Significa che le persone all'interno di questa dimensione hanno la piena libertà di definire e negoziare anche quelli che possono essere i limiti, addirittura aggiungendo una cosa importante che si chiama safe word, ovvero una parola di salvataggio che permette, una volta decisa all'inizio del gioco, di interrompere il gioco quando il gioco si fa troppo pesante. Beh, forse non l'avreste mai pensato, una cosa del genere. Immaginate quanto questo all'interno di un erotismo diventa estremamente schematizzato e estremamente importante. Eppure tanti continuano a dire che Fabi di SM è malato, è strano. In realtà tutto ciò che ruota intorno alle pratiche che vengono chiamate kinky, bizzarre, atipiche, ma trasgressive, si oppongono a quello che è il sesso vaniglia e quindi una sessualità più morbida, più conformante, più naturale o comunque forse più monotona, non lo so. Però le pratiche kinky sono delle pratiche importanti perché ad esempio partendo da delle cose molto più soft potremmo definire kinky anche i sex toys. Sicuramente tanti di voi utilizzano sex toys e non si sentono trasgressivi. E io dico, guardate, già lì state facendo trasgressione perché il sex toys probabilmente è un'esperienza alternativa a quella di una realtà normativa. E il sex toys però va conosciuto, va capito come può essere utilizzato. Bisogna, come dire, imparare a non farsi male con i sex toys. Ci sono persone che si fanno male anche con i sex toys. Oppure la pornografia, oppure i giochi di ruolo. Molto interessanti, no? Interessanti perché sembrano accattivanti, sembrano strani, ma poi generano quella situazione di prima, ossitocina uguale orgasmo. Ma anche il poliamore è trasgressione. Oggi si parla tanto di poliamore o comunque come forse sarebbe più giusto parlare di non monogamie consensuali. Parola molto particolare. In realtà i poliamorosi sono sempre esistiti da che mondo è mondo. Però oggi sembra quasi essere diventata una moda, dico io. E non è vero. Non è né una moda e né un qualcosa di sbagliato. È forse una trasgressione perché significa vivere all'interno di una realtà molto più allargata e quindi non una famiglia monogamica come conosciamo, ma una realtà molto più aperta dove all'interno ci sono sia gli aspetti dell'affettività e sicuramente anche quelli della sessualità. E questi gli scambisti. Scambisti peggio. Eh no, questi sono trasgressivi forti però. Io faccio, ma vi siete mai chiesti chi sono realmente le persone che fanno scambismo? Visto che poi tante persone magari lo negano e poi sono i primi ad avere una tessera di un club privé. In realtà lo scambista è forse la massima espressione della sicurezza di una coppia. Pensate un po'. Sapete perché? Perché la coppia scambista decide di scambiare il partner, di fare un gioco con la sessualità insieme ad altri partner, ma poi se si va a vedere la parte quella strettamente relazionale, sono loro due. Sono loro due, non sono tanti altri. Quelli eventualmente sarebbero i famosi poliamorosi di prima. Quindi lo scambista è sì trasgressivo, ma nello stesso tempo è una persona che si concede la possibilità di vivere la libertà del gioco, del gioco nella sessualità. Feticismi. Piedi, scarpe, tessuti. Tutti elementi che, io sono convinto, tantissime persone utilizzano nell'immaginario almeno. E poi però negano a loro stessi, o almeno non riescono a riferirlo agli altri. Perché? Perché si sentirebbero sbagliati. E io dico no, trasgressione, trasgressivi. Non siete sbagliati, non è questo. Parte forte, spanking, sculacciare. Beh, lo spanking in realtà ormai viene preso quasi di mira semplicemente perché l'ho visto fare a Rocco Siffredi in un video hard. Beh, no, diamogli un significato un po' più importante. Cioè quella percossa sulle natiche forse genera una sensazione particolare che può piacere alla persona percossa. C'è anche un'altra pratica che non ve la faccio vedere che è molto più pesante, il ball busting, che è comunque percuotere le zone intime maschili. Eppure anche quello non è un qualcosa di sbagliato. Lo sapete perché? Perché quando a me è capitato una volta di andare in una serata di queste dove c'era tutta questa trasgressione, mi colpì molto il fatto di osservare una persona che si stava facendo prendere a calci nelle zone intime. E lì però io mi resi conto di una cosa importante perché anch'io lì feci, oh mio Dio, cosa sta succedendo? E se lo dico io, guardate, era veramente pesante. E dissi, a un certo punto dissi, oh oh, sta succedendo la cosa che non immaginavo. La persona aveva un'erezione. L'erezione è uguale all'eccitazione. Vuol dire che quei calci dati in un posto molto delicato procuravano eccitazione. L'erezione è fantastico. Vuol dire che quella persona nel suo vivere la libertà riusciva a vivere un piacere e un orgasmo in una pratica che personalmente non farei mai. Però va bene, rispettabilissimo. Tickling, fare il solletico. Il solletico lo facciamo a tutti, poi lo facciamo sicuramente anche da bambini, ma pensate di farlo da legati o legare una persona e fargli il solletico. Diventa una tortura. Una tortura che però potrebbe essere effettivamente generatrice di piacere. A tante persone può piacere. Oppure il discorso del trampling. Fare trampling significa mettere in atto un comportamento di pressioni con scarpe, tacchi, con piedi, che permette effettivamente a chi le riceve di vivere l'intensa sensazione di piacere. Mummificazione. Sto crescendo nelle trasgressioni. Mummificazione. Privazione totale delle sensorialità. A volte si può fare semplicemente facendo bendare gli occhi. È molto più semplice. In questi casi diventa estrema. Io dico sempre, chi la vuole fare naturalmente benvenga, deve essere preparato e non deve soffrire ad attacchi d'ansia, perché tutti imbacuccati così diventa veramente complicato. Chiudo con questa immagine, che non è come dire l'ultima per minore importanza o maggiore importanza. In realtà questi si chiamano adult baby. Infantilismo, tanti direbbero. Persone che trasgrediscono nell'erotismo regredendo. Però lì mi viene in mente, stiamo attenti, non giudichiamo, perché l'adult baby vuole solamente anche lì ritornare ad uno spazio protetto per viversi un piacere. Benvenga, è trasgressione. Lo so, è tutto strano. Vi sto parlando di situazioni che sono effettivamente complesse, che sono, oh mio Dio, no, non posso accettarle. Io dico, impariamo a non giudicare, perché forse è la cosa più importante. L'ho sentito dire tantissimo oggi dagli altri colleghi degli speech. È giusto la libertà e imparare a non giudicare l'altro, anche perché dobbiamo vivere una sessualità positiva. e la sessualità positiva significa rispetto, consensualità, eguaglianza rispetto al genere e agli orientamenti e anche un'accettazione di quello che potrebbe essere una situazione legata alla non-sessualità, gli asessuali. Chiudo dicendo, il sesso non è una cattiva cosa, ricordiamocelo, perché praticamente la cattiva cosa è quella di negare alle persone il diritto delle informazioni rispetto alla sessualità. Grazie. Applausi Grazie. Grazie.